Con 28 voti favorevoli e 16 contrari, ieri sera il Consiglio regionale ha approvato la finanziaria 2018 da quasi 8 miliardi di euro. Per la prima volta in questa legislatura la legge di stabilità viene approvata nei termini e vengono così evitati i mesi di esercizio provvisorio che avrebbero creato problemi a tutto il sistema economico sardo. Soddisfazione per l'approvazione della finanziaria è stata espressa dal Presidente della Regione, Francesco Piglieru. Questa è la finanziaria della ripresa, intercetta, rafforza e amplifica i segnali positivi che stanno arrivando. La finanziaria del lavoro e del sociale ha continuato il Governatore. Con la Vorace e con l'aumento del Reisi vogliamo dare risposte alle categorie più deboli della società, garantendo assistenza ai poveri, intervenendo sull'emergenza e nello stesso tempo creando occasioni di lavoro per i giovani e meno giovani per garantire quell'inclusione che è un aspetto fondamentale e imprescindibile della nostra manovra. Dalle poste di bilancio, 156 milioni vanno all'istruzione per il potenziamento di scuola, la lotta alla dispersione scolastica e all'università, cui gli ammendamenti di maggioranza hanno aggiunto altri 17 milioni e 200 mila euro per borse di studio, affitti, borse di specializzazione medica e finanziamento delle università di Cagliari e Sassari. 346 milioni stanziati per il sociale, cui vanno sommati 24,1 per portare il Reisi, il reddito di inclusione sociale, da 30 a 45 milioni di euro. 127 milioni vanno alla Vorace, il piano straordinario per il lavoro che prevede cantieri e bonus occupazionali. Per l'agricoltura, oltre ai 344 milioni della Giunta, ci sono 20 milioni per le calamità del settore non-ovicaprino, cui si aggiungono i 25 al governo e 45 milioni stanziati per il settore dell'ovicaprino. 10 milioni invece vanno a cultura e sport.